Ciao ragazzi, ciao ragazzi, benvenuti in questo vlog post partita, un po' sottotono, Genoa-Milan 2 a 2, sono qui con Steve, ciao Steve. Ciao a tutti. Allora, partiamo dall'unica roba positiva di questa partita, è che abbiamo mantenuto inviolata l'imbattibilità. Detto questo, ci sono una sfilza di cose negative secondo me, sicuramente la prima che mi viene da dire è questo continuo infortunarsi di ogni giocatore, puntualmente tutti i giocatori chiave, già abbiamo come Benzai, Ibra, Kier, Benzer. Ora, forfaito dell'ultimo minuto per Teo Hernandez, speriamo nulla di grave, mi dicevi anche indurimento muscolare forse di Romagnoli, anche se poi alla fine ha giocato fino alla fine. Cioè, probabilmente lui è rimasto in campo, però bisogna sperare che, cioè, avevano mandato a scaldare Duarte, quindi vuol dire che il problema ce l'aveva. Cioè, non lo so, non so se è dovuto a dei carichi che stanno facendo di lavoro particolari, però obiettivamente è normale che, quando poi più vai là, più le partite diventano difficili, se poi hai fuori metà squadra, cioè, veramente tutti i giocatori determinanti, c'è Teher, Nandez, Menacerra, Ibra, Kier, poi Kier fondamentale, da quando non c'è lui, premiamo gol su azione. Abbiamo preso solo tre gol su azione con Kier. Adesso ne prendiamo due a partita. Eh? No, adesso ne prendiamo due a partita, praticamente. Cioè, obiettivamente adesso, ragazzi, ce l'abbiamo fatto diventare forte noi stasera, dai, cioè, adesso ha segnato un gol in tutta la stagione, poi viene rompere le palle a noi, ma perché? Perché non ci si può neanche arrabbiare col Calulu di turno, che secondo me ha fatto un'ottima partita per quello che poteva dare lui, però è ovvio che per dire in aria magari è meno furbo nel prendere posizione, no? Per dire su quel colpo di testa, ma perché non è il suo ruolo e ci sta, ci sta l'errore del giovane che metti fuori ruolo, però siamo troppo corti, siamo troppo corti e già è andata bene che comunque, nonostante la partitaccia, perché rispetto al Parma, dove comunque abbiamo creato tanto e giocato bene stasera, proprio annebbiatissimi, la cosa buona è che non molliamo, che comunque c'è grande cuore, siamo riusciti comunque a pareggiarla, a fare quel punticino, certo, due punti tra Parma e Genoa è comunque negativo. Assolutamente sì, assolutamente sì, tra i fattori negativi, tra le cose negative da sottolineare, da evidenziare questa sera, oltre agli infortuni, c'è proprio quello che dici tu, vale a dire che oggi non lo so, non mi è piaciuto, il Milan non siamo mai stati in partita, non mi è piaciuto a livello mentale, mentre come ti dicevo anche i primi live col Parma, nonostante lo 0-2, ero comunque soddisfatto, invece oggi non siamo entrati bene, poi sicuramente i tanti infortuni fanno, perché insomma, iniziano a mancarti anche un po' di certezze, paradossalmente il tonali di turno sente anche più, ma non che hai giocato male tonali, dico lui per dire, un contesto tonali entra ad esempio in un contesto in cui c'è Kier, c'è Ibra davanti, eccetera, quando iniziano a mancare un po' questi pilastri, queste certezze, è ovvio che le responsabilità sui giocatori che ancora non hanno fatto il salto di qualità, come può essere un tonali, come può essere un qualsiasi altro giocatore, un Brian Diaz che ha giocato benissimo oggi, però questi giocatori qua avvertono di più poi l'assenza dei vari leader, non essendo lui. La palla diventa più pesante, no? Esatto. Il problema è un po' quello, ma poi sai, è ovvio che quando inizi a toglierne tanti, tutti in una volta, la squadra diventa comunque più prevedibile, perché ti manca il giocatore, cioè, adesso io non voglio dire, stasera con Ibra vincevi sicuro, però comunque, cioè, il Geno, ragazzi, penultimo, è una squadra che si è difesa con ordine, non ha fatto nulla. Possiamo dirlo che avremmo vinto, con i sei non si va avanti, ragazzi, sia chiaro, il nostro è un discorso generico, non tanto. Il discorso è che quando ti manca anche quella brillantezza, no? Perché ci sono stati altri momenti dove senza Ibra comunque anche le riserve hanno fatto il loro, no? Però il problema è che quando ti viene a mancare un po' di brillantezza, in questo momento a noi sta mancando, perché siamo un po' stanchi, e è lì che viene fuori il fatto di avere un Ibra, un Kier, che comunque, giocando male, ti vincono la partita. Vero. Quando ti mancano pure loro, stasera diventa davvero difficile. Io non mi sento neanche di dire che qualcuno in particolare stasera, forse Leao mi ha un po' deluso. Sì, forse Leao, sì, perché ha avuto anche più tempo per, ha avuto tutta la partita per entrare in partita, scusate se mi ripeto, è così. Però non è proprio un altro da criticare, semplicemente vedo una squadra decimata che ha fatto quello che può in un momento in cui sicuramente ci sta venendo a mancare la brillantezza, e quindi dobbiamo sperare nei rientri. Cioè ogni volta dicono la prossima rientra questo, rientra quell'altro, non rientra mai nessuno e se ne fanno male altri. Cioè qui stanno dando una debacle, cioè... Assolutamente sì. Come dicevamo anche in cronaca, speriamo davvero tanto che il Milan faccia qualcosa durante il calciomercato di riparazione. Mai come questa volta il calciomercato cade veramente a fagiolo. Da qui si capirà veramente quanto la società voglia puntare su cosa. Secondo me, a parte che secondo me a prescindere, io ripeto, non credo nello scudetto, ma credo alle favole, quindi tutto può essere per carità. Per me ovviamente l'obiettivo principale rimane assolutamente il quarto posto, ma il quarto posto ha bisogno di innesti, ora come ora. Non è che dici, se vuoi lo scudetto devi fare innesti, altrimenti va bene così. No, gli innesti servono a prescindere. E quindi... Ma non dobbiamo fare neanche troppi ragionamenti, perché poi ovviamente è ovvio, dopo un girone in cui sei sempre primo, viene da... cioè molti anche in tv fanno questi discorsi lo scudetto. È ovvio che sognare lecito è bisogno, secondo me sei lì, però bisogna anche essere... bisogna comunque guardare le cose con realtà. Cioè noi siamo una squadra che se ci viene a mancare il titolare di turno siamo sempre un po' in difficoltà. Cioè Rebic, non so da quante partite sta giocando titolare e punta, ed è palesemente non una punta. E francamente anche squadre piccole, come può essere il Genoa, hanno una punta che comunque sarebbe meglio di Rebic in questo momento lì davanti. Cioè se noi avessimo uno scamacca lì davanti, che ne parlavamo prima in live, tutto sommato stasera era meglio di Rebic, ma non perché Rebic... Conosco un po' il mood di chi magari capita in questo video per sbaglio, e lo prevenire è meglio che curare. In questo momento Stefano non ha detto che scamacca è più forte di Rebic. No, lo dico perché magari uno intende che magari spesso e volentieri è meglio avere un giocatore un po' meno forte, ma che sia di ruolo, piuttosto che un giocatore più forte come Rebic, che chiaramente è più forte di scamacca ad oggi, che è un po' fuori luogo, fuori posto, e questo è il discorso. Anche perché Rebic stesso stasera non ha brillato, però comunque nel primo tempo, le uniche due volte che è riuscito a mettere giù palle e a puntare l'uomo, ha fatto delle belle cose, si è creato un'occasione da solo, driblandone due in maniera egregia. Però il discorso è che comunque era una situazione atipica. La situazione tipica dell'attaccante che riceve spalle alla porta non la sa gestire. Noi stiamo giocando un sacco di partite con i giocatori fuori ruolo, abbiamo messo un terzino a fare il centrale, quello che dicevamo prima. E quindi la società, secondo me, ha il dovere adesso, perché ci può stare che a inizio stagione dici, vabbè, insomma, partiamo così con quello che siamo riusciti a fare e vediamo dove arriviamo. Ora che sei lì e che te la puoi lottare, secondo me hai il dovere di fare degli innesti, ma che non deve essere benzema davanti. Cioè deve essere un giocatore, appunto, medio, che però possa fare bene quel lavoro lì. Perché se no, comunque, i posti che stanno sono lottati. Sulla falsa riga degli ultimi mercati che abbiamo fatto, vale a dire scelto oculate senza spendere troppo. Visto che stiamo iniziando a laggare e questa non è una bella cosa, io direi di chiudere qui. Siamo tranquilli. Nel dettaglio dei vari giocatori parleremo domani nel pagellone. Non so se ci sarai, se non ci sarai, nel caso ne parlo da solo, altrimenti ne parliamo in compagnia. Non me lo dire, non me lo spoilerare se ci sei. Grazie intanto per questo vlog post-partita. Eventualmente ci vediamo domani, va bene? Sarà. Guarda che mi tiene lì sulle spine, è incredibile. Ciao Stefano, grazie a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.